Non è ancora dicembre ma è già Natale. Lo dicono le luminarie, i mercatini e il grande albero della piazza. A Fano l'atmosfera è quella giusta e non potrebbe essere altrimenti, dato che sabato ha fatto da cornice all'inaugurazione del Natale che non ti aspetti. La rassegna che mette in rete Ben 22 tra città e borghi della provincia di Pesaro Urbino, in un grande mosaico di eventi che quest'anno, in occasione della ventesima edizione dell'iniziativa, ha avuto anche un risalto nazionale. Siamo qui oggi in una bellissima piazza, siamo a Fano sotto l'arco d'Augusto, non c'era posto migliore per poter inaugurare la rete del Natale che non ti aspetti, che quest'anno ha un sugello in più, ha il marchio del Ministro del Turismo, Onorevole Santanchè, che ha dichiarato con soddisfazione l'impegno dei volontari e ha messo anche al primo posto come questo grande evento possa diventare un evento di esempio in tutta Italia. Non era cosa scontata, ecco, essere andati a Montecitorio, aver portato la voce delle Proloquo a Montecitorio per noi, non dico per me, ma per noi volontari è un grande motivo di soddisfazione e di orgoglio. Sono contento insieme al Presidente Bartoccetti di aver dato questo contributo alla manifestazione, una manifestazione fatta da tanti volontari, che ringrazio, che illumiano, colorano i nostri borghi, forse anche i borghi a volte meno frequentati e meno conosciuti, ma danno l'opportunità di far conoscere a tanti turisti e tanti visitatori la nostra provincia e la nostra regione. Un evento che dimostra che quando si collabora, quando c'è una rete, come in questo caso una progettazione del Natale più provinciale, è un valore aggiunto. Quindi Fano ovviamente sta nella rete, oggi per noi è un piacere che l'inaugurazione dell'evento da carattere provinciale si svolga qua, in questa cornice con duemila anni di storia, che porta le sue suggestioni e dal mio punto di vista dà valore. Tantissime sono le iniziative in cartellone fino al prossimo 6 gennaio, grazie al lavoro dei volontari delle Proloco di Pesaro Urbino e al sostegno di regione e provincia. Tra Presepi, Candele e l'immancabile Babbo Natale, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta, in un periodo che di certo non può più essere definito di bassa stagione. Possiamo dirlo, abbiamo numeri da capogiro perché abbiamo in questo momento, ho parlato con tutti gli organizzatori delle Proloco, 210 Pullman prenotati da tutta Italia. Sono numeri che veramente fanno risollevare l'economia e credo che creino anche un PIL importante del turismo del nostro territorio. Questo progetto del Natale che non ti aspetti sta destagionalizzando un periodo che era morto, perché voi pensate che dal 26 di novembre che arrivano Pullman da tutta Italia e abbiamo gli alberghi tutti pieni da Senigallia fino ad arrivare a Rimini, Riccione, questo sta destagionalizzando veramente un periodo che era attrattivamente molto spento. Il valore è quello di promuovere il territorio, quello di attirare qui turismo anche in bassa stagione, ma è quello soprattutto di mettere in risalto ed in evidenza le nostre località, tanti nostri borghi, comuni anche dell'entroterra, che se non ci fosse appunto questo spirito di iniziativa, questa voglia di fare volontà delle nostre proloco magari rimarrebbero più nel buio, se vogliamo, di questi periodi anche abbastanza problematici. Noi tocchiamo con mano l'aumento dei visitatori e anche nel nostro caso abbiamo già visto delle prenotazioni mirate a questi eventi, a cominciare dal presepe che si collega al programma del Natale più, ma anche questo mercatino che è qua nella cornice del Pincio, che è dallo scorso anno che c'è, ma ha dato subito i suoi risultati. La magia del Natale quest'anno sarà doppia. Da un lato quella di emozionare, divertire e attirare turisti. Dall'altro quello di contribuire alla rinascita di alcuni territori gravemente colpiti dall'alluvione dello scorso 15 settembre. Noi dobbiamo senza meno, con impegno, con molta umiltà, aiutare anche il nostro entroterra che ha veramente tanto bisogno di rinascere e questo impegno quest'anno vale doppio perché abbiamo puntato tantissimo nei nostri mercatini ai prodotti enogastronomici, soprattutto ai prodotti dei territori alluvionati, quindi anche aiutare a risollevare la Marena di Cantiano e a sollevare tanti altri prodotti che hanno bisogno perché se facciamo ripartire l'economia questo è molto importante. Dobbiamo imparare a costruire ponti e non muri.